eccoci buongiorno a tutti eccoci collegati per l'ultima envy news del weekend del 2018 fa un po specie ma abbiamo incominciato quest'anno sono circa sei mesi che facciamo l'envi news del weekend e siamo arrivati alla fine di quest'anno voglio finire con un libro particolare un libro che un po metà strada fra un saggio è una lettura scorrevole che parla di noi è il libro di un ricerche di un professore dell'università 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 college di londra fondatore della cosiddetta antropologia del consumo cioè come noi ci confrontiamo col consumo di tutti i giorni questo libro tradotto in italiano da emanuele non ricordo il cognome adesso lo trovo lo troverò lo scritto nell'intestatina emanuele coccia per edizioni il mulino lo trovate si trova in libreria il titolo professore daniel miller cose che parlano di noi un antropologo a casa nostra questo libro è il risultato di una ricerca condotta attorno al 2006 2008 se ricordo bene il libro è stato pubblicato in inglese per la prima volta il 2008 tradotto in italiano nel 2014 ed è la storia di 12 persone che sono state intervistate in realtà selezionate su un centinaio di persone intervistate che abitano in una zona la stessa via della sud di londra south london e sono state diciamo osservate con osservazioni etnografiche colloqui per 17 mesi dallo stesso professor miller e da una sua dottoranda e ne è uscito questo libro che mette in relazione appunto le nostre vite come noi ci comportiamo con il rapporto che abbiamo con le cose ed è molto interessante perché spesso si dice che abbiamo un rapporto con le cose come noi siamo qui diciamo viene un po invertito ragionamento forse le nostre vite sono proprio un po condizionate dal da come noi ci comportiamo con ciò che abbiamo accanto le storie sono abbastanza lunghe perché stiamo parlando di storie di una quindicina di pagine quindi ci vuole un attimo a leggerle e io ne ho scelta una difficile sceglierne una fra dodici ne ho scelta una che si chiama rinascita e vado a leggervela anna ci stava spiegando come lei e luis avessero cominciato a frequentare la sezione di ebay dedicata ai giocattoli vintage della fisher price l'aspetto affascinante era che non si trattava di una ricerca di giocattoli di antiquariato si trattava piuttosto di un tentativo di ritrovare e comprare più o meno gli stessi giocattoli con cui anna e luis avevano giocato quando erano bambine il loro figlio florian aveva lo stesso garage della fisher price la stessa casa delle bambole fisher price e lo stesso giradischi fisher price con gli stessi dischi in vinile che suonavano le stesse filastrocche oltre a quelli della fisher price avevano recuperato anche altri giocattoli della loro infanzia uno era un grande camion tonka non è indistruttibile quanto proclamavano le pubblicità di allora ma in ogni caso è incredibilmente robusto un altro ritrovamento per il prossimo compleanno è uno di quei giochi di pesca con il magnete sospeso su un filo e i minuscoli pesci di plastica con gli anelli di metallo che aspettano di essere presi in questo caso non si è trattato di un acquisto su ebay lo hanno trovato da amlays a regent street una sorta di paese della cuccagna per generazioni di londinesi della classe media ci sono molti altri giocattoli che anna e luis non vedono l'ora di rivisitare attraverso florian l'unico problema è che dovranno aspettare fino a che sarà grande abbastanza per desiderarli e per giocarci le sue gambe non sono ancora abbastanza lunghe per la macchina pedali di cui sono alla ricerca come dice anna c'erano moltissime cose con le ruote che avrei voluto quando ero piccola e non ho avuto o che altre persone avevano e su cui io ho potuto mettere le mani solo raramente ma erano così eccitanti per me che ora desidero che mio figlio le abbia dato che florian stava compiendo tre anni all'epoca dei nostri incontri avremmo dovuto aspettare ancora per poter condividere e rileggere assieme alcuni dei loro libri preferiti e la loro impazienza aumentava iron man di ted yukes e molti altri aspettavano il loro turno a casa di una delle sorelle di anna e dei suoi genitori ma anna aveva confessato che stava cercandone altri su amazon l'interpretazione più ovvia di questo volersi rivolgere al passato per trovare i giochi autentici della propria epoca è quella di considerarla la rappresentazione del desiderio di ricreare la propria infanzia per il proprio figlio arrivai a questa interpretazione perché si accordava bene con un saggio che avevo scritto qualche anno prima basato in parte sui miei studi sulle relazioni tra madre e figlio durante lo shopping ma anche essere sincero sulla mia stessa esperienza di genitore per certi aspetti il rapporto di anna e di luisco il loro ruolo di genitori rifletteva la mia esperienza il periodo in cui sono nati i miei figli a posteriori mi sembra dominato dall'ossessione di fare tutto nel modo più naturale possibile mia moglie io passamo settimane intere a studiare il parto naturale e l'allattamento mia moglie ha partorito entrambe i bambini senza anestesia e non ha mai usato un biberone o un ciuccio molti genitori vicini a noi erano ancora più ossessionati evitando qualsiasi oggetto contenesse conservanti o lo zucchero o qualsiasi altro prodotto considerato nocivo per la salute del bambino in generale negli ultimi anni i genitori sembrano più rilassati e meno assillati da questi ideali di purezza e naturalità ma anna e luis hanno conservato qualcosa di questa immensa paura di fare la cosa sbagliata per il proprio bambino luis parla a lungo dei suoi sforzi per proteggere florian mentre era ancora dentro di lei durante la gravidanza era molto attenta al cibo che ingeriva per poter essere una madre ideale anche da un punto di vista nutrizionale mangiava lo sgombro che aveva letto da qualche parte avrebbe fornito al bambino i migliori ormoni una volta che florian cominciò a esistere come essere indipendente al di fuori di quella bolla protettiva che era il suo corpo a questa cura si è sommata un'egual paura di quello che gli altri avrebbero potuto lanciargli addosso al parco giochi o dei danni che avrebbero potuto cagionargli i meccanismi di previsione del danno e di promozione del bene continuano fino alle loro attuali preoccupazioni mentre lavoravano a steward street tan e luis vendettero la loro casa e si trasferirono altrove la causa scatenante fu il fatto che la scuola elementare prevista per il bacino di utenza della steward street aveva ricevuto una valutazione piuttosto piuttosto scarsa dal provveditorato scolastico decisero quindi di trovare di trasferirsi in una zona residenziale con molto verde dove potevano essere sicure di trovare una buona scuola sebbene ne parlassero con un certo imbarazzo era come se il quartiere si fosse trasformato in un utero più grande e loro facessero tutto il possibile per rendere sicuro l'ambiente all'interno di questo involucro esteriore in cui il loro bambino ora vive in un testo precedente how infants grow mothers in nord london in theory culture and society ho scritto sul modo in cui gli studiosi si sono concentrati sul processo attraverso il quale il bambino sviluppa gradualmente il sentimento di sé come essere indipendente attraverso una serie di stadi di separazione dalla madre si tratta di una teoria sviluppata soprattutto da psicanalisti come melanie klein mi sembra però che siano tre gli esseri a nascere simultaneamente il bambino ma anche i suoi genitori e particolarmente la madre la madre all'inizio è completamente legata al bambino lo vede in effetti come la sua stessa rinascita in una forma più pura e naturale è come se avesse una seconda occasione per vivere la sua vita attraverso il bambino ma questa volta evitando di venire sporcata dal mondo come accaduto inevitabilmente nella sua prima vita mi pareva che questa proiezione di una versione perfetta di sé nel bambino fosse una forma di narcisismo con il tempo però la madre deve imparare che il bambino non è una sua mera estensione che anche lei è un essere distinto e che deve attraversare diversi stadi di separazione per liberarsi da questo aspetto più narcisista dell'essere genitore ho esaminato il modo in cui lo shopping e la cultura del consumo diventano parte integrante di questo processo l'idea era quella di mostrare che la psicanalisi pensa una serie di stadi che è il bambino a dover attraversare sono invece i genitori per molti aspetti a farne esperienza sono i genitori che devono crescere gradualmente lasciare alle proprie spalle un'immagine iniziale di bene e male puramente idealizzati e proiettati sul loro bambino avvicinandosi così a una maturità che accetta le inevitabili contraddizioni presenti in lui a questo livello di generalizzazione si tratta ovviamente di una teoria semplicistica e naturalmente queste relazioni possono articolarsi in modi diversi nel tempo ascoltando più attentamente anna e luis mi sono accorto che per comprendere la loro ricerca di giocattoli fisher price vintage le mie teorie erano troppo dirette in un'altra occasione luis mi parlò di aver ricevuto dai suoi genitori uno scatolone contenente giocattoli e diari della sua infanzia solo dopo un po di tempo riuscì ad aprirlo come disse penso che le cose svolgano un ruolo importante emotivamente sulla relazione di appartenenza a un certo tempo è come disseppellire il passato e forse è per questo che quando si hanno vent'anni non si presta molta attenzione all'infanzia e alla famiglia perché è un momento di rottura ci si ritorna solo più tardi si trattava di una sorta di paura superstiziosa che lo scatolone fosse come un vaso di pandora capace di liberare tutti i suoi demoni del passato pronti a rovinare il presente luis non amava sfidare il destino e analogamente non riuscì a comprare a comprare quasi nulla per florian prima della sua nascita alla fine però decise di guardare quei cimeli della sua infanzia insieme a florian non aveva studiato la questione a livello scientifico ma era perfettamente cosciente del potenziale narcisistico insito nel rapporto tra madre e figlio racconta che il figlio guardava nella scatola e i libri non lo interessavano non volevo fare come quelli che di solito dicono oh questo devi averlo assolutamente era mio quando ero piccolo perché la metà degli oggetti non era molto interessante per lui a lui poi le bambole non piacciono per niente e c'era qualche bambola nello scatolone ho il sospetto che se florian fosse stata stato una femmina la mia teoria del narcisismo avrebbe funzionato meglio ma luis è molto sensibile al fatto che florian è un maschio e che forse specialmente nella loro situazione in cui ci sono due madri è necessario che lei trattenga il suo desiderio di proiettarsi su di lui e che gli permetta di esprimere sviluppare le sue preferenze specialmente quella di genere in realtà ci racconta una teoria genetica che spiega perché i maschi non giocano con le bambole se a florian che questi giocattoli sono indirizzati quello che è in gioco nella loro ricerca su ebay e la relazione fra anna e louise sono una coppia molto simbiotica che ha vissuto insieme per molti anni hanno vissuto con grande entusiasmo il periodo pre parentale fatto di musica e di feste hanno investito molto per diventare genitori trattandosi di due donne diventare genitori ha significato una considerevole dose di pianificazione di trattative specialmente per scegliere il giusto padre biologico questioni piuttosto lontane da quelle che si possono incontrare in una coppia eterosessuale si sono lanciate in questi nuovi ruoli con forti aspettative moltissime discussioni così in modo piuttosto naturale assieme al nuovo bambino è arrivata anche una nuova opportunità per sviluppare la loro relazione di coppia ascoltando la loro conversazione scorrere avanti indietro tra la descrizione della loro rispettiva infanzia e quella di florian un'altra possibile interpretazione sembra plausibile idealmente una coppia così simbiotica avrebbe voluto condividere la propria infanzia tutto il tempo passato prima di incontrarsi è un motivo di rammarico per le origini non condivise delle loro vite non si conosceranno mai come bambine ma oggi è come se avessero una nuova opportunità per riempire questo vuoto nella loro relazione in un certo senso non stanno condividendo solo il fatto di essere genitori ma in parte anche quello che si sono lasciate sfuggire l'un l'altra da bambine nel farlo si sono aiutate riferendosi agli oggetti e alle immagini familiari di quel periodo dei giocattoli vintage della fisher price si sono rivelati più efficaci di qualsiasi altro oggetto attraverso florian possono giocare assieme con questi giocattoli ora condivisi ed è per i genitori che questi giocattoli sono fatti ne so qualcosa io stesso per esperienza un giorno ho parlato di questa interpretazione a anna che per lavoro si occupa di bambini e delle loro relazioni con i genitori ovviamente non sapeva se le mie riflessioni rispecchiassero la realtà questo tipo di ipotesi non può essere ridotta a un chiaro ordine di causa effetto o un'analisi giusta o sbagliata tutto quello che poteva fare era rispondere positivamente alla mia proposta riconoscendo che le permetteva di avere un'altra prospettiva di senso sulle sue azioni le nostre conversazioni avevano spesso questa forma le interpretazioni presentate in questi ritratti sono affiorate per lo più scrivendo quando però emergevano già nei dialoghi con le persone che vivevano in quella strada ne parlavamo con i diretti interessati sottoponendo loro le nostre idee per capire se risultassero loro verosimili questo scambio ci aiutò a dimostrare il nostro interesse genuino e a illustrare come speravamo il materiale che stavamo accumulando ascoltandoli osservandoli era un modo per spiegare la nostra presenza a queste persone anche un'interpretazione incerta suonava più concreta che non dir loro che volevamo scrivere una tesi di dottorato pubblicare un articolo anche si ammettevano quasi sempre di cominciare a vedersi riflessi nello specchio delle cose possedute che noi avevamo contribuito a costruire confessavano spesso di aver acquisito un nuovo sguardo sulle cose che non avevano mai avuto prima o che almeno non avevano mai esplicitato del resto non avevano alcuna ragione per farlo quello era il nostro lavoro a volte ci spiegavano invece molto chiaramente che le nostre osservazioni non si applicavano al loro caso e che ci eravamo sbagliati ovviamente questo non bastava per convincerci che fossimo in errore come in tutte le relazioni le nostre interpretazioni non sono spesso così differenti da quelle che si fanno sulle proprie relazioni la smentità vehemente da spesso origine all'impressione che ci si stia esponendo troppo e ci spinge quindi a ulteriori ricerche in ogni caso era impressionante quanto la maggior parte delle persone fossero affascinate dalla semplice possibilità di simili discussioni a volte confutavano le nostre proposte ma quando erano d'accordo aggiungevano dettagli anna si ricordava che assieme ai suoi fratelli e sorelle e a suo padre faceva giochi immaginari che avevano al centro la sua cucina giocattolo e poiché luise aveva avuto esperienze simili decisero di regalare a florian lo stesso gioco gli influssi più potenti venivano dalle cose che avevano condiviso tutto non era iniziato con l'esperienza di diventare genitori c'erano infiniti precedenti che risalivano al periodo in cui si erano appena messe assieme avevano entrambe vaste collezioni musicali che ora erano confluite in un'unica collezione con un accento speciale sui gusti condivisi per esempio scoprirono di essere entrambe appassionate al reggae degli anni settanta come burning spear e lo consideravano un segno del successo della loro relazione anche se non sarebbero stati in grado di dire in che senso per anna questo accento sui gusti comuni risale a molto più indietro era e rimane vicina ai suoi fratelli e sorelle che hanno più o meno la sua stessa età non indossa vestiti molto eleganti così quando ne ha bisogno li prende in prestito da sua sorella recentemente anna e sua sorella hanno organizzato una festa di compleanno comune trascorsa per lo più ad ascoltare la loro musica preferita soprattutto boy george allo stesso tempo poiché si trattava di un triangolo relazionale le differenze fra anna e luis nel loro background le induceva a rapportarsi diversamente a florian i vestiti erano diventati uno dei mezzi più espliciti per l'esplorazione di queste differenze entrambe i genitori iniziano con la proiezione di desideri più diretta anna aveva sempre amato acquistare vestiti sono ossessionata dallo shopping ma ci sono anche delle spese consistenti quando si hanno dei bambini non potevano permettersi di comprare bei vestiti né per sé né per florian così anna come molte madri della classe media descrive un cambiamento profondo nello shopping è stato un grande shock per me il fatto che dovevo fermarmi un po prima e far esprimere florian attraverso i suoi vestiti o me attraverso i suoi vestiti proprio come quando voleva dare a florian il giocattolo con le ruote che non le era stato permesso di avere da bambina così ora vuole purificare se stessa dell'esperienza di essersi vestita male da piccola avevo vestiti che odiavo profondamente mi ricordo per esempio che verso il 1973 dovevo indossare pantaloni di poliestere verdi strettissimi e dritti avevamo vestiti che erano diventati troppo corti per noi ma il disegno in poliestere andava benissimo con i pantaloni verdi in poliestere che erano veramente scomodi e dovemmo portarli in qualche festa in ufficio ricordo di averci sputato sopra e averli gettati per terra ecco per questo importante per me che i suoi vestiti siano comodi ovviamente viene il sospetto che quando florian sarà un po più grande si ribellerà ai vestiti comodi e sceglierà abiti stretti elaborati sintetici che i suoi genitori odieranno in luis la proiezione della sua relazione con florian era differente per molti aspetti più complessa mentre anna ha continuato a lavorare a tempo pieno luis in quanto madre biologica ha interrotto una carriera di grande successo che aveva definito fino ad allora la sua vita aveva iniziato con un lavoro mal pagato partendo dal gradino più basso così basso che suo padre era fuori di sé accusandola di aver sprecato gli studi alla scuola privata e poi all'università cambridge non si erano parlati per anni questo aveva reso louise ancora più determinata nel dimostrare quello che poteva fare di sé nei 15 anni successivi scalò la società in cui era impiegata e divenne uno dei quadri dell'impresa responsabile degli affari più di tizi prestigiosi importanti non è finita bene però era convinta che la sua azienda le sarebbe andata incontro per potersi prendere cura del bambino e che per un certo periodo una volta diventata madre e sarebbe stato possibile lavorare part time ma scoprì con orrore che anche dopo 14 anni di collaborazione non le concedevano nemmeno un'ora di meno nel piano settimanale la prima fase del suo essere mamma fu quindi uno shock nonostante la preparazione fisica e mentale è iniziato con l'incubo del parto di 36 ore dopo questo è venuta la stanchezza e la noia momenti claustrofobici dentro casa fissando le quattro mura e allattando il bambino con una mano e pulendolo con l'altra scusate ma c'ho il gatto che sta cosa fai chiedo scusa riprendo la prima fase del suo essere mamma fu quindi uno shock nonostante la preparazione fisica e mentale è iniziato con l'incubo del parto di 36 ore dopo questo è venuta la stanchezza e la noia momenti claustrofobici dentro casa fissando le quattro mura e allattando il bambino con una mano e pulendolo con l'altra la paura di sprofondare in una vita passata a guardare la televisione fu più di una paura iniziò a guardare qualsiasi cosa dal golf alla sopopera è stato quasi è stata la prima volta nella mia vita che ho visto scomparire qualcosa dalla mia vita nulla nella sua vita precedente aveva avuto una simile forza sismica quanto il fatto di dover lasciare il lavoro e contemporaneamente vivere il trauma della nascita e svegliarsi ritrovandosi madre e probabilmente che abbia avuto una qualche forma di depressione post parto con la sensazione di non essere più la persona che era un tempo e di essersi ridotta non far altro che prendersi cura del suo bambino così l'effetto del trasferimento di interesse per la moda su florian ha avuto in lei ripercussioni più forti di quanto si è successo a anna come per anna anche lei ha frenato la spinta a comprare vestiti per se stessa ammette che era solita spendere una fortuna per i vestiti e che avere un bell'aspetto al lavoro in ufficio era chiaramente per lei di fondamentale importanza anna poteva usare l'abbigliamento come una forma di rinascita per esorcizzare le sue cattive esperienze per donare a florian le cose che lei non aveva mai avuto da bambina per luis invece la rinuncia a un certo tipo di abbigliamento per se stessa rifletteva non il suo passato bensì il suo presente era come se il suo corpo esprimesse questa mancanza di valore che aveva iniziato a sentire diventando madre quello che una donna diventa con la gravidanza all'allattamento può essere riassunto in sostanza in una sola parola che rappresenta la condanna assoluta di ogni forma di battaglia per creare se stessa e il rispetto di sé grassa luis sperava che sarebbe scomparso nell'arco di tre mesi dopo il parto ma non fu così ricorda era orribile perdere quella persona che ero ero molto magra e attiva e ora mi sentivo sciatta e disgustosa costretta a indossare quei vestiti premaman premaman nonostante non fossi più incinta è orribile la situazione era davvero nauseante per questa ragione i vestiti svolgono un ruolo vitale nella sua ricostruzione luis ha bisogno di recuperare la sua identità passata e i vestiti sono un itinerario naturale verso questo recupero per forza di cose in queste circostanze la riabilitazione di luis non può avvenire attraverso l'acquisto di nuovi vestiti è la persona che era stata che doveva essere recuperata quelli che mi piacevano di più erano in interessante perché erano un paio di pantaloni piuttosto cari che ho comprato a new york quando lavoravo ed erano a pinocchietto veramente molto belli li ho provati di nuovo l'anno scorso non mi stanno più e ho pensato splendido resterò grassa per tutta la vita ora ma quest'anno li ho messi tre settimane fa e mi stavano perfettamente e mi sono sentita così ridicolmente compiaciuta non so perché in fondo è solo un paio di pantaloni non mi sarebbe importato nulla se si fosse trattato di pantaloni nuovi non penso che in quel caso sarei stata così felice era solo perché potevo associarli a un periodo in cui riuscivo a indossarli luis ha anche riflettuto sul differente potenziale che le diverse forme di abbigliamento hanno in questo processo di riabilitazione ora in attesa in paziente maniacale di borse ne aveva alcune molto belle ma tra il passeggino e le corse dietro al bambino poiché le borse sono solo un ostacolo debbono essere riempito della roba del bambino sa che dovrà aspettare un po prima di assistere al ritorno delle borse le scarpe invece avrebbero potuto fornirle una continuità e un certo sostegno perché i suoi piedi non si sono mai gonfiati ma nemmeno in questo caso le cose hanno funzionato visto che deve correre continuamente nei giardinetti nei parchi giochi ora comunque grazie ai suoi pantaloni a pinocchietto vede già la luce in fondo al tunnel del brutto abbigliamento sa che si tratta per ora solo di una ripresa e non di un ritorno alla vecchia a se stessa così per comprendere i giocattoli vintage fisher price è necessario osservare tutti gli angoli del triangolo costrito tra luis florian e anna sarebbe facile liquidare questi giocattoli come proiezioni razionali di una persona sul proprio bambino o come inutile gesto rivolto al passato essi rappresentano in verità un modo fantasioso attorno dal quale una coppia cerca di sfruttare anche per se stessa la possibilità offerta dalla relazione col figlio non è che uno di quei giocattoli fosse particolarmente importante questa fase ebay non è nemmeno durata tanto a lungo quanto quella dell'acquisto dei giocattoli per florian si trattava comunque di giocattoli per alcuni di essi come il giradischi non ha mostrato il minimo interesse mentre altri come il garage hanno avuto un grande successo ma i giochi di certo hanno funzionato nella relazione tra anne e luis anche il mero fatto che ebay potesse offrire una forma inebriante di shopping che si può fare da casa prendendosi cura di un bambino ha funzionato specialmente la partecipazione alle aste restituiva a luisa almeno un po di quella eccitazione che faceva parte del suo lavoro precedente si tratta di una caratteristica delle cose materiali sono modeste non rubano il palcoscenico ma ti stanno d'innanzi come il simbolo fondamentale della tua personalità e delle tue relazioni non sono teorie non rappresentano riflessioni astratte spesso si riesce a prestar loro attenzione solo quando non funzionano hanno un aspetto strano o quando invece sono fuori posto in genere sono solo umili forme attraverso cui le relazioni vengono espresse e sviluppate la semplice tecnica attraverso cui per esempio giochi passioni o pasticci riusciamo ad accettare e occasionalmente a celebrare le nostre varie relazioni anche florian sta entrando in scena ovviamente non ha usato la parola proprietà ma l'idea di mio sta emergendo in questi giorni risponde a tutto dicendo che è di florian forse ha capito che per ora si tratta di qualcosa vicino alla verità ma paradossalmente quanto più insiste sul possesso e sul fatto che è tutto di florian tanto più libererà i suoi genitori dal loro legame narcisistico e li metterà davanti all'esistenza autonoma prima di tutto della sua volontà e poi per opposizione della loro una lettura molto interessante questa se avete voglia cose che parlano di noi un antropologo a casa nostra daniel miller della university college of london grazie tanti auguroni a tutti di buon anno con l'envi news del weekend ci vediamo nel 2019 invece per l'envi news normale l'ultima dell'anno lunedì ciao ciao